Ciao a tutti, sono qui oggi per farvi vedere come aprire un lucchetto senza chiave. Molto semplice, servono due attrezzi. Un climartello e un tensore. Questi due sono ricavati, il primo, da un chiodo, questo qua, un chiodo, piegato a L, di cui ho limato la parte più lunga, ai lati, qui, per far diventare molto stretta. Il secondo è un altro chiodo, sempre piegato a L, di cui ho limato però la parte più corta, per far diventare stretta, ma non strettissima. Prendiamo il nostro lucchetto e teniamo la parte dove ci sono i pistoncini verso l'alto. Infiliamo qui il nostro climartello e spingiamo verso l'alto per far sì che blocchi tutti i nostri pistoncini. L'ho fatto, visto? Ci sono tutti i pistoncini lì sopra bloccati, qui. Ora io l'ho fatto apposta che girandolo così tiene bloccato, potete farlo anche voi. Comunque, ora prendiamo il nostro tensore, scusate se si vede male, e lo infiliamo nella parte sotto della serratura, qui. Questa parte qua, quella più piccola, cioè quella con il buco più grosso. Aspettate un attimo. Ecco, e teniamo appunto teso col dito così. Visto? Teniamo teso col dito così. Allora guardate un po'. Noi muoviamo il grimardello un pochino così e il lucchetto si è aperto. Riproviamo, chiudo, tengo teso il tensore, muovo un po' il grimardello e si è aperto il lucchetto. Salve a tutti. Al prossimo video.